Il sindaco Michele Volzone, riconfermato a guidare l'amministrazione di Olevano sul Tusciano, ha convocato il primo consiglio comunale alla nuova giunta. Il vice sindaco, con delega ai lavori pubblici, è riconfermato Carmine Calore, insieme agli altri assessori uscenti, Filomena, Poppiti, con le deleghe della pubblica istruzione, turismo, rapporti con associazioni, volontariato e Davide Zecca, politiche sociali e giovanili. Nuovo è l'assessore Alfredo Cicatelli, con delega al personale. Inoltre i consiglieri avranno alcune deleghe. Giovanni Molinaro al commercio artigianato e viabilità, Simona Di Lascio allo sport, Clara Sesso al bilancio e alla programmazione, Michele Filiberto Ferrara all'agricoltura, foreste, demanio e ambiente.